Ciao a tutti, per meglio interagire con le persone ho pensato di creare su questo canale di Crescita Personale una live domande e risposte per abbonati, per ovviamente avere un numero di persone inferiore rispetto alla generalizzazione. Quindi se vuoi avere delle risposte a delle tue domande specifiche, abbonati a questo canale di Crescita Personale e farò delle live settimanali in cui tu potrai porre le tue domande e soltanto ovviamente sei abbonato perché la chat sarà aperta solo agli abbonati e io ti risponderò. Quindi mi raccomando, vai sul tastino abbonati e abbonati. Ciao a tutti!